Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora stasera video di recensione della selezione che avevo fatto qualche giorno fa mi sono rimasti a recensirvi 4 prodotti, eccoli qua, ve li metto avanti e iniziamo subito questo video è la terza volta che tento di registrarlo, ho avuto una combinazione astrale esagerata perché io e questa fotocamera ormai ne abbiamo poche, poche battute sono rimaste non credo che questa videocamera abbia ancora molta vita da dover dare, però ce l'ho da parecchi anni allora, mi scuso fin da ora dello scampanellino, ma io adoro questo orologio è molto estivo, però mi fa morire, è troppo carino comunque, primo prodotto di cui vi voglio parlare è questo smalto della Shaka è un bianco gesso, numerazione white short 95 è un bianco abbastanza coprente, già alla prima passata se si vuole un effetto bianco gesso su tutta l'unghia perfetto per creare la lunetta per un eventuale french manicure che mi piace anche abbastanza come manicure non la faccio spesso perché comunque non ho una manualità estrema ma poi non avendo aggeggi per poter creare bene la lunetta a volte mi incazzo e quindi evito a prescindere e la confezione è da 8 ml questo è lo scovolino, è abbastanza piatto ma è quadrato in punta non so se si riesce a vedere si asciuga abbastanza rapidamente come vi stavo dicendo alla prima passata sia per un effetto completamente bianco sulle unghie che sia per un effetto manicure non è perfettamente omogeneo quindi occorrono due passate per ottenere il massimo da questo smalto la stendibilità non è molto denso come prodotto quindi si stende con molta facilità ma la durata è pessima senza top coat dura sia e non 3 giorni al quarto in condizioni pessime va tolto mi scuso immagino che l'avrete visto la condizione del mio smalto ma domani intanto lo devo cambiare non ho avuto il tempo di farlo in questi giorni questo era un altro dello smalto che sto provando in questo periodo prima di farmi una recensione comunque questo smalto a parte la durata con top coat ovviamente va a aumentare per il resto come smalto bianco per una french è perfetta mi piace anche l'effetto total white sulle unghie altro prodotto di cui voglio parlare sempre per unghie è questo kit SOS unghie perfette della Collistar prevede 3 step uno step è uno scrub il secondo è un boost di idratazione perché è una selezione di oli e il terzo è uno smalto indurente color azzurrino che dà anche un effetto ottico di sbiancare l'unghia in totale vediamo se c'è scritto sono tre pezzi da 6 ml ciascuno quindi ogni confezioncina sono 6 ml allora in italiano tre specialità per unghie sempre perfette scrub le vigante unghie e cuticole massaggiare sull'unghia e sul contorno spingere indietro le cuticole con l'applicatore risciacquare con acqua tiepida il secondo lo chiamano elisir trefasico perché sono tre oli che si miscelano agitando il contenitore quindi agitare per miscelare le tre fasi e massaggiare sull'unghia e le cuticole fino al completo assorbimento il terzo come vi dicevo è un indurente unghia antirottura stendere sull'unghia perfettamente pulita e lasciare asciugare in reale dell'applicazione dello smalto dentro c'è qualche altro c'è anche il foglietto illustrativo anche la garanzia cioè se ti capono le unghie no, ma che significa la garanzia per un prodotto pubblico comunque sorvoliamo in italiano merito di una formula esclusiva che abbina oli di argan mandorle dolce e macadamia a due diversi tipi di particelle esfolianti microgram ah no, questo qua lo scrabble di lana c'è tutta la spiegazione quindi ricominciamo allora, un prezioso kit di tre specialità per unghie sempre perfette una vera e propria cura intensiva per la rimessa in forma di unghie fragili sfibrate e facili a spezzarsi leggo un po' così perché sono leggermente stanca e questa luce senza occhiali non vedo niente allora, lo scrub levigante unghie e cuticole molto più che un semplice scrub è un vero trattamento che leviga la superficie dell'unghia e la rende lucida, uniforme e ultra liscia minimizza le imperfezioni e le intestetiche striature favorisce la rimozione delle cuticole nutre, date e protegge l'unghia con il suo contorno merito di una formula esclusiva che abbina olivi argon mandorle dolce e macadamia a due diversi tipi di particelle esfolianti microgranuli di cera per levigare dolcemente e polvere di madreperla per rimuovere le cellule morte e le pellicine la presenza di vitamina E assicura un'azione antiossidante e protettiva stendere sull'unghia e sul contorno massaggiando per alcuni minuti spingere delicatamente indietro le cuticole con l'aiuto dell'applicatore risciacquare le mani con acqua tiepida quindi il primo step è questo come potete vedere all'interno ci sono delle particelle rosa in una base trasparente allora si contiene polvere di madreperla e olio di argan come letto va applicato sul contorno io ne applico abbondantemente sul contorno lascio agire qualche minuto poi inizio a massaggiare bene 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 tutto il contorno ci sto tipo un minutino su unghia dopo aver fatto tutte e dieci le unghie attendo un altro po' spingo indietro con un bastoncino non l'ho mai fatto con l'applicatore per evitare di contaminare dalle cellule morte il prodotto all'interno poi vado a risciacquare e rispingo indietro le cuticole perché ovviamente poi si tendono a rialzarsi sempre e l'effetto sull'unghia effettivamente è di unghia molto elimina anche un po' tipo se avete messo un colore pregno di pigmento che ha macchiato leggermente l'unghia facendo questo leggero scrub sull'unghia si va a eliminare la strada superficiale di modo tale che l'unghia sembri più bella effettivamente togliendo lo strada superficiale rovinato l'unghia di sotto è sempre più nutrita e più giovane diciamo aiuta anche in questo periodo anzi quest'estate ho avuto le unghie che mi si sfaldavano quindi avevo quelle antestetici righine e gli scalini dell'unghia sfaldata quindi usando un prodotto che andava a levigare lo scalino era meno profondo e l'unghia risultava meno soggetta a rompersi quindi questo è il primo prodotto che mi è piaciuto tanto anche un buon profumo sì a parte se non me lo metto nel naso poi andiamo avanti Elisir trifasico questo unghie un predigioso Elisir che nutre rigenera e conferisce forze resistenti anche alle unghie più fragili e stressate una formula trifasica da miscelare prima dell'uso che abbina principi attivi di parti oleose e parti idrofili consentendo di mantenere un unicum a base di olio di lino mandorre dolci giojoba ribes nero arricchito con vitamina A E estratti di bambù sostanza dall'intensa azione rinforzante e rimineralizzante agitare le miscele per miscelare le tre fasi e stendere sull'unghia e sul contorno massaggiando fino al completo assorbimento come vi ho letto va miscelato all'interno il prodotto che contiene come vi ho detto vitamina E olio di ribes nero per la maggiore va miscelato così le tre parti si uniscono diventa di questo colore violace dentro a un pennellino che prende l'olio il trifasico in modo perfetto lo stendete sull'unghia come prima lo lascio agire un minutino ad unghia poi inizio a fare questo movimento per riattivare un po' la microcircolazione sotto le unghie lo faccio tipo per un minutino così per le quattro dita e poi vado anche sui pollici fatto ciò inizio a massaggiare un minutino per unghia e l'effetto è molto idratante sia per le cuticole dove te ne accorgi prima ma poi nell'andare del tempo anche per le unghie io ve l'avrei detto fra qualche minuto quest'estate ho avuto le unghie pessime fragili che si sfaldavano non sono riuscita a tenere una lunghezza neanche decente ora che sto anche prendendo degli integratori per capelli e unghie le sento e le vedo molto più forti ma quest'estate erano praticamente morte questi prodotti mi hanno aiutato a tenere quella leggera lunghezza carina quando si mette lo smalto eccetera perché era diventata veramente che dovevo tenerle così corte praticamente questo è il mio mignolino esce vedete un pochino di spessore prima di utilizzare questi prodotti io questo spessore non lo potevo raggiungere questa altezza dovevo stare molto al di sotto della linea diciamo bianca dell'unghia quindi dopo aver massaggiato il tutto lascio agire un altro pochino poi risciacquo via il tutto e passo ovviamente all'ultima fase quando devo mettere lo smalto di solito divido questi passaggi in due momenti differenti della mia manicure il giorno prima tolgo lo smalto al corcio e utilizzo i primi due prodotti e il giorno dopo vado a mettere la base e poi il colore comunque la terza fase è questa è l'indurente andiamo a leggere dal foglietto illustrativo che sembra la bibbia allora indurente unghia indirottura un prezioso pronto intervento per unghie molli fragili sfibrati assicura un immediato effetto indurente una progressiva azione rinforzante che è vero veramente me ne sono accorta nel giro di questi mesi che lo sto utilizzando che l'effetto è sì di unghia più forte durante l'applicazione quindi con lo smalto sopra ma mano a mano che lo si utilizza nel corso delle settimane l'unghia comunque risulta più forte grazie alla polvere di diamante non appena applicato risana la superficie delle unghie le protegge le redde uniformi e lucente ed evita che si sfaldi e si spezzi usato con regolarità ora o più volte alla settimana rinforza e ristruttura grazie a un mix di keratina oligoelementi estratti vegetali ricchi di amminoacidi e antiossidanti costruisce un'ottima base per lo smalto ok si asciuga questa base nel giro di pochissimi minuti quindi poi fare la stesura di colore rapido quindi la seconda parte diciamo della mia manica diventa molto rapida il prodotto è in questo color viola azzurrino che otticamente aiuta anche a sbiancare l'unghia tantissimo quindi se ad esempio non amate il colore sulle unghie ma volete solo un'unghia naturale applicando questa base questo indurente vi regala un effetto lucido e un effetto ottico sbiancante eccezionale come vi dicevo si asciuga rapidamente il pennellino è un classico pennellino tondeggiante leggermente appiattito ma non più di tanto il prodotto si stende facilmente e si asciuga altrettanto facilmente in sostanza questo kit mi è piaciuto molto non so se può interessare io probabilmente nelle prossime settimane vorrei fare un video manicure con l'utilizzo di questo prodotto perché ha un costo effettivamente questo l'ho pagato in profumeria 20 euro l'ho trovato al duty free però non l'ho comprato a 15 euro mi sono mangiata dei gomiti gli altri 4 euro potevo comprarmi altro anche un bello smatto da qualche altra marca quindi io credo che sia veramente un kit eccellente per aiutare a evitare il degrado completo dell'unghia quindi mi è piaciuto tanto terzo prodotto per questa selezione è un altro colorista io ho già utilizzato il colorista pink hot se vi interessa vi lascio giù nell'info box il link che vi rimanda alla recensione di quel prodotto e poi ho comprato questo qua che sarebbe l'acqua air allora è quello da due settimane che dovrebbe durare da 5 a 10 shampoo sempre per bionde ombre oppure colpi di sole va via gradualmente come anche l'altro prodotto ma rispetto all'altro prodotto che ho utilizzato è molto più resistente è un tubino un tubino un tubo da 80 ml l'effetto lo fa vedere qui nelle foto questo dovrebbe essere gli effetti si vede il riflesso dello schermino allora io diciamo che sulle punte sulle ciocche più chiare sono riuscite a raggiungere questo effetto e invece sulle ciocche più rossicce più bionde invece un effetto più di questo genere è abbastanza resistente come prodotto sui capelli rispetto all'hot pink che dura veramente una sputacchia questo è molto più resistente all'interno trovate il colore vediamo se c'è scritto qualcosa colorazione temporanea lavare i capelli con shampoo e asciugare indossare i guanti applicare il prodotto sui capelli schia biondi o schiariti per massima visibilità lasciare agire per 15 minuti senza calore senza calore per un colore più acceso e duraturo lasciare fino a 20 minuti aspettare almeno due settimane tra le applicazioni ok e all'interno ci sono vabbè c'era qua dentro i guantini e poi ovviamente tutto il librettino istruttivo allora vi metterò in questo momento delle foto alcune foto che ho dell'applicazione sono foto scattate sempre il giorno dopo l'applicazione ovviamente senza aver dovuto rifare lo shampoo quindi vedete il colore diciamo quasi a pieno ovviamente non è a pienissimo non era il secondo dopo averlo fatto io l'effetto me lo aspettavo forse più puffo perché comunque io non sono chiarissima comunque delle ciocche molto più chiare quindi me l'aspettavo più un effetto puffo invece visto che per la maggiore sono un biondo relativamente scuro l'effetto era più su un verdino quindi non è che mi ha fatto mi ha entusiasmato più di tanto invece le ciocche chiare veramente era un bel colore sirenetta bellissimo quindi diciamo che mi è piaciucchiato nin 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 la prima volta ho fatto delle ciocche sporadiche poi sbagliando lo ammetto le ho pettinate quindi ho miscelato ciocche a colore pieno a ciocche in cui si era leggermente appoggiato il colore quindi alle ciocche piene era un bel azzurro acqua alle ciocche sfumate era diventato verde prato verde acqua diciamo quindi non è che quelle ciocche mi piacessero più di tanto la seconda volta invece ho fatto lo chatouche cioè ho colorato gli ultimi 10-15 cm dei miei capelli e l'ho tenuto in posa sempre 15 minuti e l'effetto era molto sirenetta che era carino ci sono andate in vacanza a Vienna con tutte quelle ciocche tutto lo chatouche sotto colorato mi piaceva mi è venuta la voglia di provare un altro colore probabilmente o un viola o un verde credo che proverò prima il viola visto che il verde alla fine un pochino l'ho già provato quindi vi suggerisco di evitare di pettinare i capelli se volete fare ciocchettina per ciocchettina e quindi lasciarle così altrimenti si sfuma troppo il colore con il rosa anche avevo fatto questo errore però quindi si miscelavano un rosa fucsia con il rossiccio e l'effetto non mi dispiaceva più di tanto però con il verde mi è piaciuto sto morendo però nel credo che l'oreal l'oreal abbia fatto veramente un bel prodotto ora voglio provare come il tol viola o il verde ultimo prodotto per questa selezione è la maschera nera questa è della 2005 Mask Complex Black Hand Pore Strip allora utilizzo della maschera allora molto semplice e veloce anche perché a differenza delle altre maschere e trattamenti antibufoli si trasforma in una pellicola che viene via molto facilmente applicare la maschera su tutto il viso ad eccezione del contorno occhi e delle zone con peluria o su ferite aperte lasciare in posa per circa 30 minuti in modo che i principi attivi della maschera penetrino in profondità trascorso questo tempo la maschera nera diventa solida formando una pellicola elastica facilissima da rimuovere togliere la maschera delicatamente e rimuovere eventuali rimasugli con un po' di acqua tiepide primi risultati non tarderanno ad arrivare sentite subito la pelle più liscia e rigenerata i dermatologi confermano la maschera nera è il miglior trattamento anti il brufoli in commercio è una maschera ottima per togliere i punti neri e i brufoli acne e combattere le rughe in poche settimane vi aiuterà a liberarvi dei brufoli ma anche a contrastare i primi segni dell'invecchiamento nell'84% dei casi ha restituito alla pelle un aspetto sano il 93% dei partecipanti ai test si è liberato completamente dei brufoli dei punti neri nel giro di un mese ciclo completo di trattamento già dopo la prima applicazione farà notare i suoi effetti benefici grazie all'elevato contenuto di sostanze antinfiammatorie e limitive pulisce la pelle in profondità liberandola da scorie e batteri e altri componenti dannosi stimola la rigenerazione cellulare favorisce l'ossigenazione rimuove l'eccesso di isi e l'impurità lasciando la pelle morbida e liscia dona alla pelle luminosità e lucentezza grazie all'azione combinata di tutti questi elementi la maschera è consigliata contro ogni tipo di imperfezione cutanea i risultati visibili saranno visibili se nella prima applicazione della maschera ok è un prodotto made in italy è una confezione da 50 ml si presenta in questo barattolino la maschera è questa è abbastanza gommosa e liquidosa non so se si riesce a vedere ha un buon profumo fresco e sa anche un pochino di liquirizia non so perché forse ci sarà qualche senza di liquirizia allora la prima volta che ho indossato questa maschera mi sono fatta un bagno di vapore ho fatto lo scrub ho pulito la pelle con il detergente e ho applicato questa maschera come ho detto la confezione su tutto il viso tra il contorno occhi e il contorno labbra sono stata tranquilla tranquilla a mezz'ora a un certo punto stavo così sembravo che avessi fatto il botox dopo mezz'ora la vado a togliere ragazze mie ok l'ho messa qua dove non tantissima io non sono un soggetto non sono soggetta a peluria è veramente una cosa microscopica ma è stato un dolore assurdo non ve lo potete immaginare qui vicino al contorno occhi qua sotto volevo morire mi faceva male la pancia a un certo punto veramente fatto vabbè non fa niente rimango in questa maschera tutta la vita alla fine sono riuscita a toglierlo effettivamente il viso risulta molto più da subito molto più liscio quindi proprio quando vi toccate anche se lavate sempre il viso lo detergiate sempre sotto la mano sentite comunque la grana non sempre perfettamente liscia invece dopo aver applicato questo prodotto la pelle è liscissima bellissima toglie punti neri è verissimo riduce anche le infiammazioni da ex brufoli tipo qua ne avevo uno che mano a mano sto curando ma quando l'ho applicata la crema era molto rosso non era esploso era più che altro una cisti che si stava diventando brufolo ed era molto rosso grazie a questa maschera l'ha comunque rimpicciolito e non era più così rosso comunque dalla seconda volta in poi ho deciso dove sono i miei problemi principali il naso leggermente le guance e il mento quindi la metto praticamente qua non vado oltre mi è capitato di la seconda volta visto che già la sentivo asciutta dopo 20 minuti di andarla a togliere malissimo perché deve rimanere in posa per tutto il tempo previsto perché nella seconda fase dopo che si è asciugata che il prodotto pene va all'interno e vi va a depurare i pori perché la seconda volta quando l'ho ottenuto 20 minuti comunque la pelle non era liscissima e pulita come la prima volta quindi conviene sempre tenerla 30 minuti perché così c'è scritto e così deve essere poi dalla terza volta ho imparato e me la tengo su mezz'ora nel frattempo faccio tutt'altro quindi mi è piaciuta però non da utilizzare su tutto il viso ok spero che queste recensioni vi siano state utili io ora vi mando un grosso bacio e vi metto a editare i video perché quelli che ho registrato qualche giorno fa alla fine comunque non li ho neanche caricati sul computer sono ancora nella scheda di memoria quindi ora mi metto al lavoro anche se devo andarmi a fare shampoo e doccia comunque ci vediamo nel prossimo video di nuovo un grosso bacio buona serata e in gamba ciao ciao ciao